Sul suo profilo social Laura Chiatti, pubblicando una vecchia foto dell'amica in un momento di spensierata felicità. L'attrice non ha svelato dettagli sulla morte della donna, ma ha voluto condividere con i suoi fan il suo dolore per l'addio all'amica. La tua attitudine è sempre stata quella verso il volo, verso l'alto, verso la libertà. Forse perché sapevi di essere una farfalla, e le farfalle tornano sempre dalle mamme. Laura Chiatti ha utilizzato parole toccanti e cariche di tristezza sul web per esternare tutto il suo dolore. Lei ti ha richiamato a sé, per non lasciarti più, ha scritto, riferendosi alla madre della donna scomparsa anche lei alcuni anni fa. L'attrice ha ricordato poi gli anni trascorsi insieme all'amica, quelli dell'adolescenza, vissuti intensamente tra follie e spensieratezza. Sei stata la mia adolescenza, parte di una vita che avrebbe dovuto impegnarsi un po' di più con te. Eri dentro ogni bellezza. Eri il suono più rassicurante di ogni canto. Solo tre giorni fa ridevamo ricordando le nostre...